Torniamo sul MES ancora una volta, non è il mio stile parlare delle persone, cito soltanto il segretario del PD Zingaretti perché lui che ieri ha detto, così tra virgolette suppongo sia vero, il governo non può più tergiversare sul MES, sul tavolo risorse mai viste per la sanità. Allora questa frase è secondo me da un punto di vista logico scorretta, nel senso che lega una probabilmente vera necessità di volere investire, volere migliorare la nostra sanità con spese di ricerca, soluzioni eccetera eccetera su cui nessuno discute ed è un po' questo, il legame tra questo e il dover per forza farlo con fondi MES. Questa è una tattica diciamo di comunicazione che tende a mettere all'inizio una cosa vera e quindi tutti dicono sì con la testa, sì dobbiamo spendere e poi si dice e quindi facciamo il MES, invece è questo salto logico che invece non esiste, però si fa credere, e credo in modo se mi consentite anche scorretto, che se non si fa il MES non si possono fare quelle spese per la sanità. Invece, ritorno alla frase, sul tavolo risorse mai viste per la sanità, intanto il mai viste è un problema di chi ha governato negli ultimi vent'anni, quindi mai viste è peggio per chi non le ha mai viste. Secondo, noi abbiamo invece accesso a tante altre fondi di finanziamento, BTP, banca centrale, ne abbiamo parlato tante volte, quindi questa diciamo equazione logica tra bisogna spendere in sanità e quindi dobbiamo fare il MES è fondamentalmente sbagliata, incorretta e scorretta nella comunicazione, a meno che non si voglia forzare l'uso del MES per qualsiasi altro motivo. Grazie a tutti.